Abbiamo fatto la partita che abbiamo studiato prima con Roberto e Paolo quindi abbiamo fatto bene tutte le cose che c'era da fare bene partendo dalla battuta e dalla ricezione e dopo via via il gioco al centro con Tibe che ha giocato tanto con noi stasera ma poi abbiamo giocato tutti bene quando giochiamo così bene sciolti è difficile per tutti vincere contro noi